Questo gioco è coinvolgente perché devi colorare tutto e nel stesso tempo uccidere gli avversari. Una cosa mai vista in giro. Gli altri giochi sparatutto sono molto incentrati su il singolo, mentre questo coinvolge di più la squadra e la fa collaborare. Infatti adesso ho convinto tutti i miei amici a giocarci. Abbiamo fatto la sfida e ho perso. Mi piace il fatto che leghi una serie di generi abbastanza differenti, sparatutto, arcade, eccetera. Dà una nuova interpretazione al genere. È una cosa tipica che fa Nintendo e che apprezzo molto. Sia dalle meccaniche di gioco, la visuale, ma soltanto l'ambientazione è molto diversa, molto carina. È molto più giocosa, un po' meno seriosa rispetto a tutti gli altri sparatutto che ci sono sul mercato. Le consiglio a tutti! Grazie a tutti!